Le interviste di Leggo Cassino Siamo nuovamente qui, siamo nuovamente qui al Medaglia d'Oro di Cassino questo nostro tour continuo, avete visto una scuola completamente alla vanguardia il dirigente Marcello Bianchi ce l'aveva detto nella prima intervista avete visto questi schermi grandissimi, siamo qui nel laboratorio di informatica e stampa 3D ho detto bene professoressa Fasolo Sì, sicuramente, io insegno in questa scuola da tanti anni questa è la nostra aula ambiente di apprendimento diciamo che per l'informatica anche questa metodologia nuova che è partita in sperimentazione quest'anno non è proprio una novità perché per l'informatica abbiamo sempre avuto un ambiente di apprendimento dedicato che è il laboratorio appunto i ragazzi qui hanno postazioni uniche dove si esercitano e acquisiscono le loro competenze di problem solving che sono competenze tecnico-scientifiche ma che sicuramente sono competenze che servono poi nel mondo del lavoro e anche per la vita di tutti i giorni sviluppiamo quindi le capacità di programmazione quindi abbiamo dei software dedicati con i quali loro si esercitano qui in classe insieme anche a altri docenti che sono insegnanti tecnico-pratici che affiancano i docenti di teoria e poi gli stessi software loro li possono scaricare e utilizzare a casa per esercitarsi questa nuova metodologia rende le aule sicuramente più funzionali all'insegnamento perché abbiamo la possibilità di fare acquisti dedicati ad ogni singola disciplina inoltre credo che potenzi proprio questo senso di appartenenza degli studenti alla scuola e all'aula perché sono loro stessi promotori di acquisti, di abbellimenti dell'aula per renderla confortevole e anche stimolante e motivante i ragazzi si spostano come avrete avuto modo di vedere ogni ora e raggiungono l'aula per la lezione successiva questo resetta un po' e favorisce la concentrazione per cui sono pronti subito a fruire la lezione dell'ora successiva quindi tutto si sta svolgendo bene e siamo molto soddisfatti Ci diceva il Preside e lo vediamo anche qui tra l'altro alle nostre spalle nella prima intervista che abbiamo fatto ci diceva il dirigente Bianchi che quest'anno avete avuto tanti finanziamenti anche con il PNRR quindi vediamo questi acquisti che sono stati fatti, questi schermi molto grandi come è cambiata la didattica e i ragazzi come hanno accorto queste novità? La didattica sicuramente è diventata più coinvolgente la strumentazione tecnologica diciamo d'avanguardia rende possibile avere delle pratiche innovative che attirano molto di più l'attenzione queste lavagne sono lavagne collegate a internet quindi noi in qualsiasi momento possiamo fare ricerche abbiamo la possibilità attraverso il touch di scrivere quindi anche di utilizzare una tecnologia che è molto più vicina a quella che usano i ragazzi e con cui sono veramente esperti anche loro e quindi è un'innovazione che favorisce Un'innovazione che favorisce come ci ha detto anche il Preside e anche altri suoi colleghi che abbiamo ascoltato una scuola storica, una delle più antiche di Cassino ma sempre all'avanguardia all'innovazione noi dal laboratorio di informatica è tutto vi salutiamo, restate settorizzati perché proseguiremo il nostro tour nella scuola grazie, grazie professoressa A voi, arrivederci a presto le interviste di Leggo Cassino A voi, arrivederci a presto